Gli estrogeni sono i principali ormoni sessuali femminili, il loro impatto sulla salute complessiva della donna è davvero tanto importante. Gli estrogeni infatti intervengono sullo sviluppo sessuale, sulla fertilità, sulla libido, ma intervengono anche sulle funzioni cognitive delle donne così come intervengono nella regolazione del tono dell'umore o nello stato di salute complessiva del cuore o delle ossa. Gli estrogeni circolano per lo più in forma coniugata, ossia legati ad una globulina prodotta dal fegato i cui bassi livelli sono in qualche modo implicati nello sviluppo della sindrome metabolica. Il microbiota intestinale può in qualche modo influenzare il livello degli estrogeni circolanti attraverso la produzione di beta-glucuronidasi. Si tratta di enzimi che praticamente deconiugano gli estrogeni, cioè li staccano dalla loro proteina di trasporto, così trasformandoli in ormoni liberi che sono certamente in grado di svolgere le loro funzioni fisiologiche ma in maniera sregolata, cioè in maniera non adeguatamente calibrata. I batteri del microbiota che producono beta-glucuronidasi, così aumentando la disponibilità di estrogeni liberi, vengono cumulativamente indicati con il termine di estroboloma. Accade così che in caso di eubiosi, cioè di equilibrio della flora batterica intestinale, si abbia una adeguata produzione di beta-glucuronidasi con conseguente adeguato livello di estrogeni circolanti ed in caso invece di disbiosi, cioè di alterato equilibrio quali quantitativo del nostro microbiota intestinale, si possa avere una aumentata produzione di beta-glucuronidasi con aumentata disponibilità di estrogeni liberi e conseguente comparsa di patologie estrogenocorrelate come per esempio obesità, malattie cardiovascolari, osteoporosi, turbe mestruali, vaginiti, endometriosi. A proposito di quest'ultima, che è patologia nel nostro paese piuttosto diffusa, potendo interessare circa il 15% delle donne in età riproduttiva, va detto che differentemente da quel che accade per la sindrome dell'ovaio policistico, che è patologia iperandrogenica con bassi livelli di estrogeni, nell'endometriosi si osserva appunto un'aumentata disponibilità di questi ormoni. L'endometriosi, che ricordo è patologia legata ad un'abnorme proliferazione di tessuto endometriale al di fuori dell'utero, è clinicamente caratterizzata da dolori pelvici, importanti e continuative perdite di sangue mestruale, infertilità. Verosimilmente dunque nelle donne con endometriosi vi è un arricchimento dell'estrovoloma, quindi un'aumentata presenza di batteri che producendo beta-glucoronidasi aumentano appunto i livelli circolanti di estrogeni e in effetti in donne appunto con endometriosi è stata notata una diminuita abbondanza di batteri benefici per il nostro organismo, soprattutto appartenenti alle famiglie lacnospiracee e ruminococcacee e nelle feci di donne con endometriosi al terzo o quarto stadio è stato per contro riscontrato un aumento di batteri potenzialmente patogeni come per esempio escherichia coli e sigella. Ancora una volta dunque si evidenzia il ruolo importantissimo e non più omissibile del microbiota intestinale e del suo equilibrio che in qualche modo bilancia il buono stato complessivo della nostra salute.